Musica Quest'anno abbiamo toccato vari argomenti, ce ne mancano ancora un paio prima della fine dell'anno, ma non poteva mancare uno di quelli che sono stati il nostro pubblico, i nostri visitatori, i club, a suggerirci l'anno scorso. A gran voce è nata la richiesta di parlare del GTA 147-156 e soprattutto di spingersi un po' oltre su quelle che sono state ipotizzate, a volte anche presentate, come nel caso della 156 GTM presentata al Motor Show, ma che poi non sono state prodotte. Per cui iniziamo a parlare di queste vetture, non introducendone la storia perché probabilmente la conoscete benissimo, alcuni di voi ce l'hanno, alcuni di voi l'hanno guidata, alcuni di voi probabilmente se la sono studiata. Le 156 e poi 147 GTA sono state presentate a un certo punto della storia dell'Alfa Romeo, rievocando un nome, ovviamente in un certo senso tradendone un po' l'identità perché non erano più leggere delle normali 156, ma seguivano quel filone di tributo che era già partito nel mondo delle corse con la 155 GTA, che aveva vinto il campionato superturismo nel 92, poi con 156 e 147 e poi più recentemente con la Giulia GTA che è stata venduta l'anno scorso. In questo caso invece stiamo parlando di un periodo dell'Alfa Romeo in cui le cose vanno molto bene, la 156 quando viene presentata raccoglie 60.000 ordini prima ancora di aver consegnata la prima, sarà un grande successo di immagine, sarà un grande successo commerciale, 680.000 esemplari venduti e questo è anche il risultato di una gamma che va via via ampliandosi negli anni, arricchendosi di tecnologie, di versioni, di motori sempre nuovi e soprattutto venendo affiancata anche da altri modelli come 147 e poi GT che non solo hanno un successo loro stessi, ma rendono anche molto più economica la produzione della 156 stessa, che quando viene presentata la 147 beneficia di una riduzione di costi notevole e quindi fa sì che l'Alfa Romeo in quel periodo possa vivere un periodo di grande sviluppo. Dal punto di vista tecnologico sono gli anni in cui si presentano di continuo le evoluzioni del turbodiesel common rail e che va sempre ad occupare le prime pagine delle cartelle stampa di presentazione, ma lavorando sull'immagine c'è in corso un'attività sportiva molto fruttuosa, la 156 alla fine vincerà 13 campionati fra piloti, team e costruttori, correndo nei vari campionati di turismo, e la 147 darà invece origine a un campionato monomarca che sarà una palestra per molti piloti. Quindi tutta questa attività di prodotto, di immagine e sportiva viene poi a culminare con la presentazione del top di gamma di 156 e 147. Ma come sempre io mi fermo quasi qui e quindi chiamerei gli ospiti che questa volta ci accompagneranno in questo racconto. Quindi, Valfredo Binda, prego, vieni pure, Sergio Truzzi e Nicola D'Amico. Accomodatevi. Tutti, tutti. Di 156 e 147 GTA ci sarebbe da dire molto sulle intenzioni che hanno portato alla presentazione, su come sono state commercializzate, sulle modifiche che ha subito il telaio per lo più di taratura, in alcuni casi delle lieve modifiche della carrozzeria per alloggiare, insomma, delle gomme più larghe, o comunque delle specifiche leggermente diverse, ma il cuore di questo progetto, che è anche, diciamo, l'aspetto maggiormente comunicato dall'Alfa Romeo all'epoca, è ovviamente il motore. Per cui ci siamo circondati di motoristi, che sono loro che ci racconteranno un po' come nasce questo motore, cioè che è l'ultima, o diciamo la penultima evoluzione del motore nato nel 1979, e di come questo motore abbia comunque attraversato diverse epoche, sempre rimanendo ai vertici delle categorie e soprattutto rimanendo nel cuore degli appassionati. Per cui partiamo da Balfrido, che ci porta una prima tabella, e ti chiederei innanzitutto di presentarti al nostro pubblico. Sì, buongiorno e benvenuti, mi chiamo Balfrido Binda, sono stato per parecchi anni responsabile di sviluppo motori, in particolare agli ultimi anni sul sei cilindri, e in particolar modo ho seguito da vicino la nascita proprio della versione GTA. Sono rimasto fino praticamente alla definitiva dismissione di questo motore, che è avvenuta all'incirca alla fine del 2005, anche se lo stabilimento di Areseva ha già smesso di produrre da circa un anno. Come nasce il discorso GTA? Partiamo da questa tabella, vedete è fatta a mano, perché all'epoca era molto comodo, molto più rapido, e qui dove nasce? Non dico che nasce davanti alla macchinetta del caffè, perché sarebbe un tradire quello che poi era un lavoro che si faceva tutti assieme, ma però nasce così da una discussione su come poter dare un po' più di vite, e un po' più di, come dire, qualche elemento di novità sul motore sei cilindri di Arese, che era a quell'epoca limitato a versioni 2005 e 3000. Mi ricordo che quando ne parlai col mio capo di allora, il compianti ingegner Lanati, diceva, proviamo a vedere, l'idea era di giocare sul discorso della corsa, perché? Della corsa, sì, della corsa fondamentalmente, perché? Perché l'intervento doveva essere il minore invasivo possibile, anche e soprattutto dal punto di vista economico. Per cui da questa tabella si può vedere che alle corse originali, che erano il 66,2 per il 2000, versione turbo, il 68,3 che era il 2005, e il 72,6 mm, li vedete riquadrati in rosso, che erano le cilindrate all'epoca in produzione, l'idea fu di proporre un'unificazione con corsa 78 mm, ricavabile dal grezzo che avevamo, senza quindi fare interventi di attrezzamenti per quanto riguarda l'albero motore. 78 mm è un limite fisico generato da cosa? da quello che noi motoristi chiamiamo il bandolino. Non è nient'altro che l'inviluppo nella sezione trasversale dell'albero motore con le sue spalle e la testa di biella, che non deve andare ovviamente a interferire nella zona delle canne con il basamento. Quindi diciamo, era un limite fisico, altrimenti bisognava intervenire anche sul basamento. 78 mm, il discorso ricavabile dal grezzo attuale al momento della stesura della tabella non era propriamente vero. Diciamo che poi parlando con lo stabilimento, la Resi eravamo una grande famiglia, quindi il dialogo tra le varienti era giornaliero, per cui parlando con lo stabilimento stava lamentando un eccessivo sovrametallo sui grezzi degli alberi motore. Al che l'idea fu di vedere se c'era la possibilità, lavorando appunto senza fare delle grosse modifiche, ricavare una corsa maggiorata. E in effetti è quello che successe. Ovviamente questa operazione, penso che si possa dire, era un pochettino, tra virgolette, carbonara, nel senso che le tecnologie erano state tenute volutamente all'oscuro della questione perché altrimenti sarebbero intervenute con i loro costi e i loro interventi. Per cui assieme al responsabile dell'unità operativa di Arese e assieme al responsabile dell'ingegnere di produzione riuscimmo a far lavorare alcuni alberi con corsa 78 che poi furono utilizzati per montare dei motori e cominciò la sperimentazione. Diciamo che grossi problemi non se ne sono avuti, nel senso che il motore girava tranquillamente, niente particolari problemi di affidabilità, se non per la situazione più critica che vedremo dopo, che era l'eventuale incremento di cilindrata a 3.500. poi le versioni sono state fatte, esistono, girate, forse girano ancora come può confermare l'amico Sergio Truzzi, ma diciamo che dal punto di vista nostro di produzione avevamo qualche remora, per cui diciamo qualche motore è stato costruito, la particolarità è che la numerazione parte con 35, si chiamano 35, 35, 001, 002, fino a 007, hanno girato anche un pochettino in durata, quindi diciamo che forse c'erano le premesse, forse c'erano le premesse. L'occasione fu appunto con il discorso della GTA, si cominciò a parlare di questa versione, perché finora è rimasto tutto sulla carta, andare a proporre una motorizzazione nuova in una situazione in cui il motore si sapeva che prima o poi sarebbe morto, diventava un pochettino difficoltoso. Si presentò appunto con l'idea di fare la versione GTA, versione GTA che nasceva attraverso degli incontri con i responsabili, diciamo lato vettura, attraverso degli incontri che si svolgevano normalmente al venerdì mattina a Chivasso, dove c'era lo stabilimento Lancia e dove c'era la gestione sportiva. E vabbè, diciamo che lì la vettura aveva una impostazione che era un po' diversa da quella che poi alla fine uscì in produzione, uscì in serie, perché all'inizio era più simile a quella della 147, quindi i parafanghi piuttosto bombati, insomma alcuni interventi, richiamando la GTA, il cofano, il portellone del baule, le portiere fatte in alluminio, proprio per richiamare il GTA, che vuol dire gran turismo alleggerita, penso che lo sappiate meglio di me. di fatto, se poi magari vai a girare ecco l'altra, che è sempre poi, se vogliamo, ecco qui vediamo una data, che è il 30 luglio del 98, qui è sempre una rappresentazione grafica di quello che ho detto fino adesso, e il GTA appunto, tra l'altro anche sul motore, c'erano degli elementi di novità, che non erano soltanto l'aumento di cilindrata, ma per esempio si era pensato di fare un cassoncino in fibra di carbonio, come quello che vedete qua, questa è della versione Autodelta. In realtà io ricordo all'ufficio del quinto piano del centro Tengo c'era una versione un pochettino più piccola di questa, sempre in fibra di carbonio con la scritta GTA, con il logo GTA in rosso. Anche questa purtroppo fu abbandonata per questioni di rumorosità, di diciamo problemi eventualmente di affidabilità nel tempo e così via. Per cui, ecco, questo qui è un po' quello che venne presentato per quanto riguarda la versione, l'incremento di cilindrata. Vi dicevo, dell'incremento di cilindrata non ha a che fare con la GTA, ma ve lo dico, perché è un po' un retroscena, con l'incremento della corsa a 78 mm e l'unificazione si era pensato anche di fare una versione 2008, che però il prodotto non aveva preso molto bene, cioè pensava che non potesse avere appeal sulla clientela Alfa Romeo. Una cilindrata strana, dico, ma se è strano il 2008 è strano anche il 3200, no? Però, diciamo che la cosa andò in questo senso. Furono realizzati dei motori, uno fu messo anche su una 156, e devo dire la verità, era abbastanza impressionante, perché l'incremento di prestazioni che aveva avuto questo motore passando dalla cilindrata del 2005 e del 2008 erano molto importanti, soprattutto a bassi giri aveva una coppia decisamente più sostenuta del fratello da cui aveva avuto origine. Non se ne fece niente, e vabbè, qui un pochettino quando era stato presentato, infatti vedete che poi è sparito il 2008, sono rimasti il 2005, il 3 litri e il 3002 con le loro applicazioni, perché il motore poi una volta partito sulla GTA, scusatemi, una volta partito sulla GTA è stato esteso anche al modello 166 e anche sulla Lancia Thesis che nel frattempo aveva preso il 3000 V6 originale, quindi anche sulla Thesis Lancia, vettura che purtroppo non aveva un grande successo, fu implementato il motore 3,2 litri. qui vediamo un po' il figurino, tutto sommato le dimensioni non cambiavano, rimanevano le stesse, gli interventi fatti fondamentalmente furono, come vi ho detto, l'incremento di cilindrata, una differente fasatura lato aspirazione mentre sullo scarico era rimasto la stessa, ovviamente un intervento sui pistoni per poter mantenere la stessa lunghezza della biella e per il resto diciamo esternamente al di là del cassoncino con il logo GTA 3200 V6 era quasi 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 riconoscibile ecco anche se però nella sostanza al suo interno variava qualche cosa e qualcosa di importante. Quindi qui diciamo questa era la scheda prodotto del motore 3200 V6 qui vedete 240 V6 perché era la versione 240 CV che era quella leggermente depotenziata che andava sulla 166 ecco qui abbiamo un po' di specifiche vedete la curva di prestazioni quello che era interessante notare era l'incremento che si era avuto di coppia sia come coppia massima ma anche come coppia ai bassi giri purtroppo non ho qua una sovrapposizione di curve con il 3000 ma vi posso assicurare che era ben visibile e anche come dire anche palpabile anche palpabile andiamo avanti cos'è che c'è vabbè qui d'accordo come era il confronto fra le teste 12 valvole e 24 valvole in termini di permeabilità della testa soprattutto lato lato aspirazione andiamo avanti quando viene presentata la GTA si fa molta si fa molta attenzione a spiegare come mai si fosse voluto aumentare la cilindrata per migliorare la guidabilità eccetera dimenticandosi o meglio andando oltre quello che era stata l'epopea precedente cioè quella della sovralimentazione la generazione prima di 6 cilindri era stata aveva avuto delle versioni turbo Nicola tu ci puoi raccontare qualcosa anche di quello che hai montato sperimentalmente e di cui noi abbiamo anche un esemplare qui in museo con due turbo è vero salve a tutti sono un amico Nicola io mi sembro occupato dei motori turbo dall'85 quando con la presentazione del 164 la sperimentazione era molto tra l'altro per noi era molto tremenda nel senso che era esagerata per alcuni tecnici purtroppo però era questo il sistema Alfa Romeo diciamo che era si parla di monoturbo sono 6 cilindri monoturbo invece c'era anche biturbo qualcuno provava anche bruturbo a tempo perso noi quelli più volonterosi si dedicava all'esperimentazione che non si dovevano neanche fare però si faceva per la volontà di qualcuno e avevamo io ho avuto la fortuna di provare un biturbo si faceva a tempo diciamo a costo zero proprio di sabato si andava lì abusivamente per fare un biturbo e si girava e si arrivava su 280 dicevo ricordavo i miei colleghi che si girava con 280 cavalli 100 ore ma sempre sono 8 ore senza mai fermare il motore si formava 8 erano 8 minuti se mi ricordi 8 minuti a tavoletta poi si mollava un minuto al minimo poi 8 minuti ancora a tavoletta questa per 8 ore 9 ore tutta una tirata al mattino dopo si ripartiva ancora un totale di 100 ore con 280 cavalli ed era un motore biturbo quindi ricordavo i miei colleghi che lo chiamavamo i motori generosi perché era un motore che si poteva trattare in quella maniera eppure il basamento dava le sue prestazioni senza che non c'era anomalia insomma gli ultimi episodi io mi sono occupato anche della rete per un periodo di tempo che gli ultimi gli ultimi motori era ritornava dalla rete con difetto zero proprio che nessuno anche le concessionarie non avevano più niente da fare il motore perché era a costo zero non c'erano difetti e quindi questo era il motore finito nell'epoca anche se il mio collega dice che c'era ancora qualcuno che gira però ormai la cosa è molto limitato niente è un motore che come ripeto era molto generoso e dava tanta soddisfazione già il fatto che il motore è partito a un suo tempo con due valvole è partata 24 valvole quindi già questo vuol dire che il motore è di un buon progetto un po' come ricordo ancora il mio collega che quando è nato il motore box era un 1100 è stato portato fino al 1700 quadrifoglio verde che era un motore che era tanto rispettoso però praticamente sembra stato lo stesso quindi da qui vuol dire la virtù del progetto che era un progetto molto valido e così è successo anche con il nostro 6 cilindri Alfa Romeo niente dopo la presentazione delle GTA per un po' non succede nulla e poi accade che da un giorno all'altro si decide che tutto quello che va a correre deve chiamarsi GTA per cui la 147 che fino all'anno prima faceva la 147 Cap con il motore 2000 viene chiamata 147 GTA Cap la 156 che con il motore 2000 correva nell'europeo turismo da successivamente inizia a essere chiamata 147 GTA anche se in realtà si tratta sempre della stessa vettura sempre con il stesso grado di elaborazione è tutto un discorso comunicativo e lì viene data una nuova spinta anche alla comunicazione della della gamma GTA e improvvisamente senza nessuna anticipazione al motor show di Bologna nel 2002 viene presentato questo esemplare con carreggiate allargate molti alleggerimenti nei cofani parti in alluminio e motore 3005 e viene presentata nello stand dell'Alfa Romeo ma come un progetto della N Technology che all'epoca N Technology ex Nord Auto era di fatto il reparto corsa dell'Alfa Romeo che quindi quella che portava in pista sia le 147 che le 156 che vincevano nel turismo quindi arriva improvvisamente al pubblico il fatto che si stava lavorando su cilindrate ancora superiori al 3002 quella che vedete lì in nero che insomma senza particolari modifiche monta un motore 3003 senza che abbia almeno non ce l'abbiamo noi magari lo sapete voi alcune informazioni su potenza coppia e caratteristiche ma incominciano a proliferare tutta una serie di vetture che partendo dalla GTA vanno oltre non solo nel 2002 al Motor Show quando viene presentata con le insegne di N Technology ma ancora di più nel 2004 quando la meccanica la stessa meccanica 3005 viene presentata su questa volta una Sport Vagon GTA ma già con la carrozzeria restyling diciamo con la carrozzeria Giugiaro e portando le insegne dell'autodelta perché nel frattempo la N Technology era stata si occupava sempre dello sviluppo della logistica insomma portava in gara le vetture però la squadra corse era stata ribattezzata squadra corse autodelta per cui l'esemplare successivo viene presentato come autodelta e aveva questo cassoncino che se poi avrete la possibilità di vedere ha uno stimino autodelta diciamo una replica di quello che era l'autodelta degli anni precedenti mentre al Salone di Ginevra del 2004 quando viene presentato il cassoncino è tagliato e reso trasparente perché si veda perché si vedono i tromboncini di aspirazione quindi Valfrido avevi accennato delle evoluzioni oltre il 3002 eccoci qua sì come vi dicevo prima sempre nell'ambito di mantenere la corsa a 78 mm si era vista la possibilità di fare una versione 3005 qui vedete la curva di prestazione dove quella nera è la versione 3002 GTA base quindi con i suoi 30 kg di coppia e quasi 250 cavalli poi abbiamo due versioni del 3005 una con un terminale modificato quindi sul lato scarico e un altro con lo stesso terminale del GTA qui vedete l'incremento di prestazioni si arrivava a sfiorare i 280 285 cavalli con una coppia 927 33 saremmo a 33 34 35 36 chilogrammetri come vi dicevo prima marchiati 35 001 002 e così via fino allo 007 i motori sono stati realizzati poi noi da uomini di diciamo di produzione di serie avevamo qualche remora perché passando all'alesaggio a 98 si andava a restringere nella parte posteriore la circolazione dell'acqua attorno alla canna dell'ultimo cilindro vero sì vero no diciamo che non è stata fatta una sperimentazione approfondita il motore ha girato anche un po' indurata non facendo le 500 ore che erano previste per la delibera per quello che ha girato e per quello che mi ricordo io grossi problemi non ce n'erano stati però da lì a buttarlo in serie buttarlo sul mercato siamo rimasti devo dire la verità sia io che il mio capo siamo rimasti abbastanza frenati per cui non abbiamo spinto più di tanto anche perché non sembrava ci fosse molto interesse a livello di prodotto ripeto di serie è vero che poi come ha detto Lorenzo Ardizio qualcuno l'ha fatto e qualche motore anche di cilindrata superiore sta ancora girando nonostante siamo passati una decina d'anni però un conto anche perché se andiamo a vedere effettivamente quando è che andiamo a impegnare potenze del genere quindi da questo punto di vista forse la cosa ci sta anche diciamo che all'epoca i nostri metodi le nostre come dire le nostre procedure di dare l'ok alla messa in produzione erano abbastanza abbastanza severe per cui sempre consci del fatto che non è che ci fossero molti soldi da spendere decidemmo alla fine di lasciarlo così di non spingere più di tanto ecco questo almeno per quello che mi ricorda io nel frattempo e chi ha visitato la collezione del museo del faromeo ci sono altre vetture che hanno montato questi motori una non è mai stata presentata ufficialmente che è una 166 che ha una scrittina 166 gta m un po' sulla falsariga di quella che era stata la 156 che monta il motore 3005 mentre un altro motore 3005 viene a lungo sperimentato su una 147 gta però a trazione integrale a tre differenziali che è una meccanica sola che a un certo punto ha un incidente durante il collaudo viene smontata viene rimontata su un'altra scocca e di fatto ce n'è una sola ed è anche lei esposta nella collezione del museo quella della trazione integrale andava a risolvere diciamo uno dei problemi che aveva che ha la 147 156 gta di trazione sulla trazione anteriore non risolveva quella dei freni in realtà che era un altro problemino ma la trasformazione da trazione anteriore a 4x4 mi dicevi non è stata proprio diciamo banale non è una semplice modifica no possiamo vedere qua questi sono studi che erano stati fatti all'epoca qui c'è il differenziale e si vede che aveva un impatto notevole sulla coppa dell'olio fosse stato soltanto la coppa in sé la cosa sarebbe stata risolvibile il problema è che andava a toccare la pompa la pompa dell'olio che è quella sta qui azzurra che vedete che avrebbe richiesto un riposizionamento e e ovviamente tutte le attività connesse al fatto che si andava a modificare un componente diciamo fondamentale per il funzionamento del motore per cui sempre consci del fatto che noi uomini di produzione di serie eccolo qua nuova coppa dell'olio nuova stina livello pompa dell'olio traslata in direzione X per annullare interferenza necessaria staffa di fissaggio corpo pompa i cappelli di banco nuovo condotto di mandata olio ecco il fatto di dover fare questa staffa per fissaggio al corpo dei cappelli di banco il corpo scusate ai cappelli di banco ci lasciava un pochettino perplessi il fatto sta che anche in questo caso la cosa era rimasta un pochettino in stand by poi io devo dire la verità nel 2006 all'inizio del 2006 ho lasciato alfa Romeo per cui la storia che è successa dopo le poche cose che so è perché sono rimasto in contatto con gli ex colleghi però diciamo ecco qua possibili modifiche interferenze è stato mantenuto il profilo dell'attuale coppa coppa fusi in terra nuovo pescante diciamo che per questi interventi che ovviamente comportavano un esborso economico non da poco anche qui visti i numeri che c'erano non fu mandato avanti almeno finché io sono rimasto in alfa Romeo è vero come dicevamo che poi qualcuno l'ha fatto qualcuno l'ha fatto però un conto ripeto è farla su pochi esemplari un conto è farla su una produzione di serie anche magari con pochi numeri ma che deve soddisfare delle condizioni di prove di durata e di sì di prove di durata che ovviamente comportano anche qui un esborso non da poco ecco qui vediamo nuova posizione vecchia posizione perché può essere cercato anche di spostare un pochettino il discorso della differenziale centrale però ecco fino che io sono rimasto è rimasto questo studio ecco di lì non si è andato avanti questa è un po' un po' la storia finché io sono rimasto ecco in ogni caso c'era da fare una scatola differenziale specifica quindi ovviamente anche in questo caso altri investimenti che poi forse non sarebbero stati giustificati visto i numeri di una vettura del genere nel frattempo gli anni passano le gamme si avvicendano gli accordi con altre aziende si fanno e come sappiamo la generazione successiva quella della 159 avrebbe avuto delle altre motorizzazioni e tanti progetti si arenano o comunque non vengono portati oltre però la storia del 6 cilindri 3002 e poi con cilindrate successive va avanti fuori dall'Alfa Romeo e di questo ci può parlare Sergio Truzzi che se ne è occupato in prima persona si buongiorno mi chiamo Sergio Truzzi mi sono occupato dell'applicazione elettronica dei controlli motore diciamo che all'interno della fabbrica madre dell'Alfa Romeo il tema dell'incremento di cilindrata è stato trattato abbastanza profondamente ma ad un certo punto si è dovuto fermare per questioni per considerazioni industriali non c'erano risorse sufficienti per giustificare la modifica del motore ma questo tentativo di fare un'evoluzione è andato avanti diciamo al di fuori dell'Alfa Romeo vi voglio parlare in questa presentazione di quella che è l'elaborazione più più importante che ho visto fare su questo motore e cioè il passaggio a una cilindrata di 3.700 un'operazione che è stata fatta nell'intorno del 2005 2004 2005 questa è un'immagine del vano motore di questo 3.700 non si non si vede niente di particolare ma ma il 3.700 era ottenuto attraverso la maggiorazione dell'alesaggio dei pistoni si è passati dal 93 che era originale in Alfa Romeo al 101 secondo stimati progettisti una mossa molto azzardata nella realtà poi i motori hanno funzionato e stanno quasi qualcuno sta funzionando ancora adesso tutto questo ha permesso di portare le prestazioni di questi motori a livelli veramente molto diverse dall'originale cioè il motore diventava come aspirato raggiungeva abbastanza facilmente i 300 cavalli insomma cosa cambiava? cambiava praticamente soltanto il pistone e le canne tutto il resto i condotti di aspirazione le test cilindri rimanevano le stesse era un'elaborazione relativamente economica diciamo quello che può fare un elaboratore che ha un'officina non ha un'industria diciamo per arrivare a questo livello di prestazioni sì oltre all'incremento di cilindrata 3.007 si aiutava diciamo l'aspirazione del motore con un cocco farfallato leggermente maggiorato utilizzando quelli dei Ferrari 360 erano pochi millimetri non era alla fine non era fondamentale però insomma anche di fronte a chi doveva potenziale acquirente diciamo faceva la sua bella figura insomma sì qui ho qualche esempio di una di qualche elaborazione leggera diciamo alcuni preparatori preparavano dei filtri aria con dei condotti modificati in carbonio oppure applicavano delle cam particolari insomma qualche differenza la facevano non delle cose fondamentali comunque questo qui è un esempio di nuova tubazione di scarico che poteva venire proposta anche lì per incrementare leggermente le prestazioni generalmente questi andavano a togliere anche il catalizzatore diciamo usavano dei tubi un pochino più grandi di quelli di serie e anche questo tutto faceva brodo tutto poteva portare ad un incremento questi tubi di scarico venivano usati sia sul 3 e 2 che sul 3 e 7 era lo stesso anche qui un altro esempio di un altro collettore di scarico un modo di presentare di potenziare motore questo qui ecco questo qui è il vano motore del 3007 potete vedere che praticamente non si vede niente è lo stesso come 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 la vettura originale diciamo questo qui è appoggiato sulla 156 sempre con questo logo autodelta che praticamente che però non è l'autodelta di cui parlava prima Ardizio è un autodelta inglese io adesso non so perché c'è questa sovrapposizione di nomi però diciamo questo autodelta avrebbe rilevato il vecchio storico marchio dell'Alfa Romeo infatti il logo è scritto la stessa maniera della vecchia Alfa Romeo però lui si trova a Londra non è in Italia diciamo non so se forse non si vede molto questa tabella non si riesce a leggere molto però diciamo che porta la differenza tra il 3002 e il 3007 esattamente 3750 centimetri cubi si vede che la differenza fondamentale sta all'esaggio che passa da 93 a 101 mantenendo lo stesso albero motore quindi elaborazione relativamente economica diciamo centralina motore rimane la stessa sulla vettura venivano adeguati anche i dischi freni sono più più performanti ovviamente e anche veniva applicato un differenziale parzialmente autobloccante poi tutto di quello che è di conseguenza per le gomme e tutto via parliamo di prestazioni invece sul 3 e 7 sia il 3 e 2 che il 3 e 7 sono stati proposti anche in una versione compressore non con turbo a gas di scarico come siamo abituati a vedere normalmente è un compressore centrifugo bazionato a cinghia è grosso poco più di un alternatore veniva piazzato appena sopra l'alternatore l'alternatore viene leggermente abbassato e sopra viene messo il compressore trascinato dalla stessa cinghia servizi questo compressore arrivava a generare una sovrappressione dell'intorno di 07 08 bar quindi un po' meno di un turbo praticamente però per alcune versioni si è fatto anche si è tentato di andare più su come pressione però normalmente questa elaborazione consentiva di arrivare a 400 cavalli circa sul 3.700 400 cavalli insomma è un bel numerino e il motore se li porta via abbastanza bene nonostante i dubbi diciamo che si poteva avere a livello di progettazione stavo guardando che era salito anche il regime di potenza massima perché si passa dai 6.200 a 7.000 giri al minuto che di per sé noi non abbiamo mai girato con questi con questi giri come durata di per sé però perché la potenza massima si era intorno ai 6.000 con il motore in casa e quindi non era necessario andare a 7.000 diciamo che girava nella cambiata nel limitatore e così via però sono transitori una volta ogni tanto però diciamo che la struttura in particolar modo qui la criticità dove sta sta nel nel fatto che le valvole possano seguire la legge della camma diciamo che da questo punto di vista qui era abbastanza protetto il motore perché adesso non ricordo bene i numeri ma penso che arrivassimo come regime di sfarfallamento attorno ai 7.000 3.7004 quindi diciamo un po' al limite però ci sta ecco diciamo che qui in questo diagramma nella linea blu vediamo la prestazione che arrivava ad avere il il 3.700 in versione aspirata dell'intorno dei 320 cavalli invece questo è una prova del 3.700 con quel compressore arrivava nell'intorno dei 400 cavalli dove si vede che appunto la potenza massima già se l'aveva a circa 6.000 giri e se la teneva anche anche più su un po' era dovuto anche al modo di funzionamento di questo compressore perché essendo trascinato da cinghia più il motore gira veloce più lui spinge e quindi era favorente diciamo l'andare su di giri poi a un certo punto vedete lì 7.200 si ferma ma lì c'è stato messo il limitatore per non esagerare insomma questo qui dunque questo è il 3.200 in versione col compressore la linea blu diciamo è tutta una serie di misurazioni delle prestazioni adesso attenzione alla scala delle potenze in questo caso sono prestazioni calcolate in base al flusso d'aria che veniva garantito al motore i 500 cavalli sono i cavalli sviluppati all'interno della camera di combustione non sono quelli messi messi a terra da lì bisogna tirarne via circa 90 perché sono quelli che sono le potenze perse per l'attrito interno del motore insomma la linea rossa è la linea rossa è il 3002 di produzione praticamente adesso vediamo l'altro questo qui invece è leggermente più alto è il 3007 col compressore anche lui guadagna anche lui qualche cavallo ancora si va sui 500 circa 540 550 a cui bisogna togliere ancora i circa 90 cavalli degli altri 40 per il movimento stesso del compressore insomma la potenza assorbita del compressore e comunque si arriva a un rispettabile numero di circa 400 netti insomma queste vetture qui qualcuna sta ancora via avranno una decina d'anni qualcuna sta ancora girando ogni tanto ritorna a fare italiani certo i cavalli sono tanti in funzione di una lunga vita di una durata di un motore può darsi che qualche rischio si sia anche preso però diciamo considerando l'uso che se ne fa di queste potenze su queste macchine probabilmente servono per andare a divertirsi ogni tanto diciamo grandi chilometri non li faranno insomma ti ringrazio mentre Valfrido mi dicevi che le ipotesi successive e quelle che abbiamo visto se ne sono state portate avanti anche dopo si ecco qui vedete dunque guardate il logo in alto a sinistra FIA GM Powertrain qui siamo in piena joint venture con General Motors quella che è durata diciamo dal 2000 fino al 2005 che ha portato lo sviluppo di quello che è conosciuto nel mondo come sei cilindri Holden su cui ci sarebbe anche qui tante belle storie da raccontare e come vedete come vedete c'è un Alfa Romeo HF V6 che era l'acronimo di High Feature V6 c'era un'opzione GTA con un turbo con una potenza che poteva arrivare a 350 cavalli a 6.000 giri al minuto e una coppia massima di 450 newton metri era un'ipotesi che era stata messa sul piatto qui siamo nel 2003 ecco nel 2003 dopodiché è morta il motore è andato avanti nella versione 3002 in iniezione diretta che è quello che poi è andato sulla Brera sulla 159 e che di fatto ha terminato la sua vita sulla Brera sulla 159 ecco per cui questo per dire che l'appeal di una versione GTA era stata percepita anche dai nostri allora colleghi di General Motors che avevano devo dire la verità una venerazione per il marchio Alfa Romeo con cui io ho lavorato benissimo devo essere sincero mi sono trovato molto bene avevamo stabilito proprio una relazione anche di amicizia tant'è vero che sono un paio di persone che io regolarmente sento ogni anno attorno a Natale per cui diciamo è durata ben oltre quello che era la nostra collaborazione lavorativa ecco quindi non se ne è fatto niente però l'idea era balenata era balenata anche lì ed era balenata molto prima della presentazione della gamma stessa perché il 3002 Old e me ne aveva applicato nel 2005 esattamente esattamente sì sì qui siamo ancora in fase di definire la griglia del motore ecco questo motore era nato fondamentalmente all'inizio per il mercato americano e per il mercato europeo su Opel e Sub ma Opel e Sub parlavano di una versione Turbo 2008 poi con la Joint Venture siamo arrivati noi 3002 per 3002 il motore fu sviluppato qui ad Arese almeno per quanto riguarda tutta la parte della testa cilindri e dell'iniezione la parte bassa era di origine di origine General Motors powertrain e il motore veniva poi fabbricato alla Holden in Australia lo stabilimento di Melbourne ma qui si apre tutto un altro capitolo e tutta un'altra storia che magari qualche volta varrà la pena anche di raccontare sicuramente sarà un tema da dibattere anche per diciamo sfatare alcuni miti poi in realtà qualche anno dopo un 3002 diciamo Holden Biturbo viene realizzato viene realizzato per o in collaborazione con la polizia come vettura da scorta come vettura diciamo predisposta per la blindatura il 3002 Biturbo viene poi omologato con 347 cavalli ne vengono costruiti pochissimi due forse tre esemplari uno di questi non è esposto in collezione ma fa parte della collezione del museo e prossimamente lo metteremo in esposizione è una 159 berlina che ha i paraurti anteriori e posteriori della Brera quindi con le prese d'aria diverse e con i quattro scarichi e ha alcune feritoie ritagliate artigianalmente sui cofani sui fianchetti sugli scarichi ma soprattutto per via della colorazione nera sono quasi impercettibili poi intorno a questo motore qui 3002 Autodelta ha costruito ancora lo sviluppo verso il 3007 col compressore anche lì è stata un'avventura questa decisamente più difficile perché per il tipo di iniezione che ha su questo motore iniezione diretta c'erano diverse limitazioni e più di una certa potenza non si poteva salire perché il motore non riusciva a fornire sufficiente carburante va bene ne parleremo in un'altra sicuramente ci sarò un'occasione io intanto vi ringrazio per essere intervenuti ringrazio il pubblico che se ha delle domande come sempre è benvenuto a fare e insomma vedo che non vi fate pregare grazie mille allora volevo approfittare di questa occasione perché appunto sul tema busso girano tantissime storie anche proprio perché è così amato dagli appassionati e c'è una leggenda che non ha nessuna conferma o perlomeno che abbia trovato io che però continua a essere ripetuta e girare ma è vero o non è vero che la Cosworth ha chiesto di comprare le attrezzature quando poi è finito il V6 ad Arese io alla Cosworth gliel'ho chiesto al loro ufficio stampa perché mi piace andare a fondo delle cose e non mi hanno mai risposto rispondo ma non rispondo nel senso che mi ricordo che quando fu dismessa la produzione ci fu qualche azienda interessata a rilevare qualche macchinario dello stabilimento personalmente non ricordo la Cosworth devo dire la verità personalmente però ripeto questa è la storia che so io sicuramente mi ricordo un paio di aziende tra cui ce n'era un'indiana interessata erano venuti anche in visita allo stabilimento e il responsabile dello stabilimento mi aveva chiamato mi aveva chiamato giù per fare più che altro da traduttore ecco poi mi risulta che non se ne fece niente di questa cosa qui per cui credo che cioè io purtroppo ho avuto la sfortuna di vedere svuotare lo stabilimento ecco mi ricordo l'ultimo l'ultima mia frequentazione dello stabilimento quando ormai era completamente vuoto c'erano solo delle casse di rottami 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 tra virgolette perché c'erano chiavi c'erano attrezzature utilizzate in produzione che erano vendute a prezzi di rottale quindi in cassoni di metallo e c'era rimasto solo una persona che era la persona che poi doveva dismettere completamente lo stabilimento stava solo aspettando che arrivassero quelle degli impianti per togliere l'impianto elettrico l'impianto di aria compressa l'impianto idraulico e così via è stata veramente molto triste devo dire la verità riguardo a quello ripeto non so rispondere posso dire che c'era stato qualche interessamento per rilevare l'attrezzatura soprattutto credo la le come si chiama le l'area di di produzione delle teste ecco di lavorazione delle teste cilindri quello sì mi ricordo perché ero stato coinvolto se non altro in veste di traduttore ecco di Cosworth devo essere sincero non mi ricordo cioè non mi ricordo non lo so non lo so ecco per cui può essere che magari sopra la mia testa è anche passato sopra le nostre teste è anche passato però dare una risposta non sono in grado ecco niente sì buonasera innanzitutto grazie per la vostra testimonianza la mia domanda è i 10 cavalli che vengono dichiarati di differenza tra la versione GTA e la versione tra virgolette normale da dove saltano fuori? grazie ecco qua no fondamentalmente diciamo come ho detto prima sul GTA era stato fatto un piccolo ritocco della fasatura mentre questa fasatura non era andata sulla versione 30002 per la versione per la versione come si dice che era andata sulla 166 barra thesis GTA aveva questa caratteristica l'altro aveva mantenuto la fasatura del 3000 originale sì i 10 cavalli in meno erano una penalizzazione che si poteva accettare perché a fronte dello spostamento della cam c'erano 10 cavalli in meno ma c'era un po' di coppia in più quindi su vetture come la 166 o le vetture non dedicate ad essere sportive non presentate per essere sportive si poteva accettare qualche cosa di diverso poi c'era anche una questione commerciale esatto la versione sportiva bisognava presentarla con qualche cosa di diverso insomma altrimenti non avrebbe giustificato il fatto di essere chiamata sportiva e buonasera sono Andrea e anche io che faccio i complimenti per la relazione allora io ho la fortuna di possedere un 147 GTA e un 156 Sport Vagon GTA presi ancora quando considerati poco che fortunato esatto e diciamo che sono andato in pista più volte sia con una che con l'altra e con la nelle stesse piste magari una volta in una e un'altra pista con l'altra io allora il 156 è un Euro 3 e il 147 è un Euro 4 tutte e due apparentemente hanno il motore identico quindi pre-cut perché sarà una mia impressione ma il 156 vola e il 147 un po' meno questa cioè la mia domanda è avete fatto qualche magheggio tra l'Euro 3 e l'Euro 4 o potete anche confessarvi grazie ma le vetture sono tutte e due originali eh questo non è dato rispondere però però come concetto anche cioè diciamo che c'è una differenza sostanziale a parità di eventuali modifiche la domanda è pertinente cioè se parliamo di velocità massima vabbè per quanto si possa elaborare un motore un motore aspirato gran differenza non fa ma se se parliamo di guidabilità di risposta alla risposta all'acceleratore o del genere ci si possono costruire dei magheggi a livello di centralina che ti possono dare questa questa impressione una vettura che vola e l'altra che sta ferma insomma per quello che chiedo se le vetture sono tutte e due originali buonasera e ringrazio per questa conferenza una domanda riguardo la 166 quella gtam della collezione solo trazione anteriore o integrale e poi il motore 3.5 o il biturbo che c'era anche sul prototipo Shiger è a trazione anteriore con lo stesso 3.5 che è montato sulla 156 presentata come auto delta sulle ginevra del 2004 poi che abbia esattamente le stesse specifiche bisognerebbe andare un po' addentro però il motore è quello cioè con le stesse caratteristiche Andrea ciao Valfrido ciao ciao Sergio allora intanto vi esorto a fare tante domande perché in rete su questo motore se ne sentono ovviamente come sapete di ogni e loro sono i guru che ci possono spiegare esattamente le specifiche del V6 e in questo caso del 3.2 io voglio raccontare un attimo un piccolo aneddoto che c'entra con il discorso che hai fatto tu Valfrido e con Paolo Lanati io ho una GT 3.2 che l'avevo lasciata originale l'ho comprata all'ultimo anno di produzione nel 2007 e nel 2013 all'epoca andavo da Balduzzi a fare la manutenzione Balduzzi era molto amico di Paolo Lanati e cui spesso veniva chiesta delle consulenze e lo porto a fare il tagliando gli dico guarda io voglio vedere se ha perso qualche cavallo in circa 70-80 mila chilometri eccetera Balduzzi aveva il banco prova come faceva lui non ti preoccupare te la provo io domani mattina vieni qua te la provo gli ho detto però aspettami che voglio vedere con mano non evitare che magari ti arroccava qualcosa stavo andando a Lodi a un certo punto mi chiama Balduzzi mi chiede dove sei e gli faccio sono quasi al casello non venire gli faccio perché è successo un casino io qua l'ho tirata mi sono svegliato alle 5 volevo provartela alle 5 di mattina l'ha provata a freddo e mi ha fuso il 3-2 io sono andato lo stesso perché me l'ha detto mentre ero al casello cioè tremavo oddio cosa è successo sta di fatto che a quel punto ho chiesto a Paolo Lanati l'ultimo anno prima che che mancasse gli ho chiesto senti facciamolo 3-5 lui assolutamente mi ha detto no il 3-5 non è affidabile semmai ti do io una preparazione che avevamo fatto quindi in questo caso chiedo a voi la conferma perché io ho a casa una fotocopia di la sala prova numero 21 di Arese con del 2001 quindi Valfrido c'eri ancora sì sì c'ero dove c'erano le specifiche a 278 cavalli 3-2 con alcune specifiche con tutta una serie di modifiche dove la cilindrata rimaneva 3-2 che interessavano i pistoni che interessavano e lui mi diceva ma perché vuoi farmi fare il 3-2 scusalo aprire per aprire facciamo il 3-5 a questo punto visto che comunque partono tutti da lì no perché per i discorsi che avevi fatto tu probabilmente non era affidabile e noi diciamo quasi vent'anni fa tutti i motori che qua provavano che comunque poi non servivano più o venivano dismessi da Cesa che è un autodemolitore autorizzato di Fiat Auto e noi uno l'abbiamo anche acquistato a 700 euro parliamo più di 10 anni fa credo il numero 7 adesso vado a memoria come 3.500 come 3.500 grippato però 80.000 chilometri aveva l'attivo 80.000 chilometri quindi hanno girato tanto questi questi V6 sta di fatto che lui non mi ha voluto fare fare la modifica 3.5 ma ho voluto fare la modifica 3.2 potenziato e Oliveri mi diceva l'ingegnere Oliveri mi diceva che avevate pensato a fare un centinaio infatti c'è proprio scritto su questa fotocopia per eventuali 100 esemplari da dare ai primi clienti di 156 GTA stiamo nel 2001 o clienti particolari con 280 cavalli volevo capire se era io posso solo dire finisco che in 90.000 chilometri il motore con 280 cavalli consumava tantissimo in meno andava tantissimo in più non ho mai avuto un problema ti posso rispondere in questo senso spegnete le telecamere ormai è storia vecchia vai tranquillo ti posso rispondere in questo senso faceva parte un po' di queste operazioni che io definisco un po' carbonare io non ho partecipato ti confesso a questa perché in quel periodo lì ero stato buttato al 100% sull'Holden quindi non seguivo più quello di Arese cioè una volta partito il GTA mi sono dedicato completamente all'Holden so che comunque Paolo Alanati aveva lavorato con il gruppo Alfa Corsa che c'era qui ad Arese al Fabricato 10 e un collega mi raccontava appunto di queste cose qua che avevano fatto delle elaborazioni cosa fosse stato fatto non sono in grado di risponderti proprio perché l'ho sempre sentito anch'io ma non non ho mai visto ecco per cui non è che non voglia non voglia parlare preferisco preferisco non dire niente prima di dire qualche stupidata ecco so che comunque era stata fatta un'attività nel dettaglio non sono in grado di dietro però se mi dai un po' di tempo può darsi magari che riesca a recuperare le informazioni che in questo momento non ho ti posso dire che con Balduzzi non so se sulla tua vettura o su altre la calibrazione la calibrazione l'ho fatta io ma Balduzzi utilizzavo anche dei signori alberi a cam è una buona fasatura per cui per arrivare certo mi sembra un po' esagerato andare a 280 cavalli però insomma ci si arrivava da quelle parti insomma se poi la vettura ti funzionava bene dimmi grazie non è detto che se avessi fatto il 3500 magari riquidere lo stesso che problemi non ne avevi non ne avresti avuto però ripeto lì era stato abbastanza fermo Paolo è stato abbastanza categorico no dal punto di vista fidabilistico sensazioni poche prove non lo so però di fatto buonasera io invece voglio un'informazione riguardo più che altro alla trazione che si parla tanto di aumentare i cavalli però come scaricare questi cavalli a terra è sempre un problema io sono un processore di un 127 gta da 10 anni la porto in pista solo in pista praticamente è separato del q4 ma non è separato del q2 ma perché non c'era ancora un'idea di fare il q2 o perché non è stato preso in considerazione di metti un q2 che forse è meno problematico di un q4 a livello di spazi e differenziale non so rispondere non conosco è difficile questa domanda no no sì 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 perché poi il differenziale è poi il punto debole di questa macchina sì ripeto q2 cos'intende scusi il differenziale autoblocca ah il differenziale no ripeto 147 come ho detto prima l'ho seguita solo fino a un certo punto poi quando sono andato via che ci siano state delle altre evoluzioni non lo so quindi diciamo forse più una domanda non tanto da motorista quanto da da cambista esatto cambista su questa cosa qua prendiamo nota e poi e poi anche diciamo telaista ecco perché poi la domanda successiva è come li scarico a terra buonasera sono Alessandro un'informazione noi abbiamo fatto tempo fa un motore un 3 e 7 abbiamo ricevuto tutte le specifiche dall'autodelta però si è dovuto lavorare anche su blocco e su testate per passaggi di acqua e anche ingombri delle canne sul blocco qual è la cilindrata per il quale non si deve fare questa operazione a scendere il 3 e 5 sia toccato che blocco e testate passaggi d'acqua oppure no il 3 e 5 si può fare tranquillamente su questa base qua problemi non ce ne sono al di là di quello che dicevo prima di un restringimento del passaggio dell'acqua attorno alla canna del cilindro posteriore problemi non non ce ne sono ecco da questo punto di vista cioè dal punto di vista fisico di ingombri non non ce ne sono ecco quindi certo che salendo adesso non lo ben presente che sono passati anche 20 anni però può darsi che salendo con con l'alesaggio oltre i 98 può darsi che cominci a esserci qualche problema su quello che chiamavo prima il mandolino no? da aggiustare intorno ci si possa essere esatto e poi giustamente se pensiamo il 3.700 che hanno messo una canna da 101 già noi avevamo qualche remora con 98 per lì di dietro è logico che magari qualche intervento qualche intervento va fatto qualche rischio si prende andando a fare il 101 lo si fa lo si fa per il risultato comunque fino al 3.500 si può tranquillamente si fanno le canne nuove i pistoni nuovi si mette dentro con l'albero corso 78 problemi non ce ne sono problemi dal punto di vista ripeto di ingombri o di interferenze o spazi ridotti tra parti movimento e fisse avrei più di una domanda una riguarda Busso e Holden Holden doveva essere tra virgolette un fratellastro di Busso o veramente erano due progetti due vite totalmente diverse e poi 3-2 è vera questa cosa che delle modifiche erano già state fatte e si volevano provare su SZ periodo 90-91 allora rispondo alla prima domanda no non nasce non nasce sul diciamo come evoluzione del motore non è un derivato è un motore completamente nuovo come dicevo prima la base nasce negli Stati Uniti in General Motor Powertrain che aveva deciso di sviluppare all'epoca questa nuova famiglia di motori che originariamente si chiamava Electron poi dopo è diventata HFV6 o iFeature V6 che era un motore come definivano loro worldwide perché veniva prodotto in diverse parti del mondo veniva prodotto negli Stati Uniti veniva prodotto nel Messico veniva prodotto appunto in Holden che tra parentesi non so se la sapete ma la parte di Holden non esiste più da parte di meccaniche di Holden ha chiuso lo stabilimento qualche anno fa non mi ricordo esattamente quando per cui era un progetto completamente nuovo il progetto prevedeva ovviamente vabbè è un V6 quindi non è un V6 di 60 non è che bisogna però per esempio rispetto al busso aveva le canne integrali non erano canne riportate doppio variatore di fase sia l'aspirazione che lo scarico nel caso di applicazione Alfa Romeo iniezione diretta anche se anche se vi devo dire che su questo motore qua qualcuno ha pensato di implementare l'iniezione diretta benzina sulla scia del 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 quattro cilindri famiglia B esatto famiglia B che era diventata iniezione diretta e qualcuno aveva pensato di farlo anche su qua in giro un po' di materiale anche su questo però non l'avevo seguito io personalmente ero coinvolto ma non in prima persona però diciamo che si era pensato comunque ripeto sono due progetti completamente differenti mentre sulla seconda domanda se c'erano delle ipotesi ancora sul 12 valvole ma io devo essere sincero ho trovato anch'io questa informazione ho trovato anch'io questa informazione però un po' fuori dai canali ufficiali ecco un po' fuori dai canali ufficiali quando uscì l'SZ vi dico anche che io ho visto un SZ con il motore 24 valvole quindi non è che quindi qualcuno che ci ha messo le mani che ci ha pastrocchiato c'è perché mi ricordo di aver visto un SZ gialla no SZ qual era? SZ la Coupé RZ la Spezia SZ allora SZ sì c'era gialla e mi ricordo di aver visto un motore ricordiamoci che il 24 valvole nasce quando era già stata fatta la trasversalizzazione perché originariamente il motore il bus originale il 12 valvole era stato messo in trasversale per applicazione sulla 164 il 24 valvole nasce già trasversalizzato quindi non era predisposto per un montaggio longitudinale eppure ho visto un motore 24 valvole U6 24 valvole predisposto per montaggio longitudinale per un SZ quindi ne ho sentito anch'io parlare di questa cosa qui però devo essere sincero un po' fuori dai canali ufficiali montaggi strani ce ne sono stati per dire io stesso ho seguito il montaggio di un motore GTA su un'alfetta l'alfetta del 1970 quindi l'abbiamo fatta andare insomma sempre roba degli inglesi insomma innanzitutto mi unisco e complimenti che tutti vi stanno facendo avevo una domanda sullo scarico sugli scarichi ho letto a onor del vero da più di più volte che in occasione della presentazione della 156 GTA M era stato incluso uno scarico realizzato in collaborazione con Super Sprint magari c'è qualche aneddoto a riguardo si dice anche che poi sia lo stesso scarico che Super Sprint propone come scarico specifico per le GTA non conosco esattamente l'argomento ma so che Super Sprint è un fornitore di marmitte per diversi per diversi modelli quello che si può dire è che non sarebbe una cosa strana se questo fosse avvenuto perché nella linea di scarico complicata a quanto si vuole asimmetrica a quanto si vuole per la scollazionazione trasversale perché c'è un ramo corto un ramo lungo ci sono i catalizzatori e cose del genere però il peso grande diciamo il peso sulle prestazioni lo fa soprattutto il terminale la marmitta terminale perché ha le esigenze di spegnere moltissimo il rumore ci sono delle normative sul rumore che vengono osservate attraverso la costruzione di opportuni labirinti nelle marmitte posteriori e questo è penalizzante per il livello di prestazione del motore non è strano che qualche costruttore di marmitte se ne sia fatta qualcuno un po' più libera e che la vettura sia anche un po' più brillante per questo farà un tono di rumore un po' diverso ma sta nel gioco diciamo e poi questo si è stato usato scusa in fase di presentazione della vettura non lo so dipende bisogna chiedere agli addetti ai lavori come hanno fatto riagganciandomi un attimo a quello che ha detto se vi ricordate prima quando abbiamo visto la curva del 3005 effettivamente c'era un confronto con due differenti tipi di terminali uno il terminale standard di GTA e l'altro con un terminale specifico e si vede effettivamente che c'è una ricaduta a livello di prestazioni su tutta la curva tra l'altro sapete che il tubo di scarico genera volontariamente una pressione che sarebbe un ostacolo alla uscita del gas di scarico e questo ostacolo è quasi tutto collocato nella manovita posteriore Salve mi chiamo Fabio anche io mi accodo ai complimenti che vi sono stati fatti e vi ringraziamo tutti quanti per essere qua veramente a parlarci di questo motore spettacolare io mi volevo allacciare alla domanda che era stata fatta da ragazzo prima di me per quanto riguarda lo scarico super sprint vi chiedo questa cosa la super sprint vende quello scarico completo come quello scelto per la GTAM e quello consigliato anche da Alfa Romeo la super sprint dice anche che lo scarico è stato fatto in collaborazione con voi ora vi faccio questa domanda precisa è vero o no? secondo me è un po' duro ricordarselo perché sono cose di tanti anni fa ma è vero che alcuni costruttori di tubi di scarico prima di mettere in commercio i loro prodotti anche se erano prodotti diciamo a ricambi non originali diciamo però spesso venivano venivano da noi in esperienze a farli testare poi che andassero bene non andassero bene in commercio li mettevano lo stesso insomma però magari potevano dire che erano stati testati anche in Alfa Romeo fa parte anche della presentazione commerciale del prodotto insomma ecco diciamo che come uomo di serie di produzione non era nel novelo dei fornitori di produzione prego bene un'altra domanda domanda allora l'ultimissima prometto siamo qua siamo qua ok il il V6 è mai stato preso in considerazione il V6 questo qua di Arese per essere montato su 159 o quando è nata quando è iniziato il progetto 159 quindi inizio degli anni 2000 si è subito pensato a una nuova famiglia di motori grazie 159 no nasce con una nuova famiglia di motori anzi vi racconto Sì esatto anche perché ricordiamoci che la 159 nasce sulla piattaforma cosiddetta premium che veniva sviluppata in Svezia a cui avevano aderito sia Saab che Opel come General Motor Europe poi a un certo punto sia Saab che Opel si sono tirati indietro e praticamente si è trovata solo Fiat Auto con con questo tipo di piattaforma questo tipo di telaio no non è stata presa in considerazione vi dico anche una cosa erano state presi in considerazione Mitsubishi come iniezione diretta per sostituzione e addirittura si era parlato anche di una possibilità di BMW che all'epoca aveva sviluppato un motore trasversale per se non sbaglio per la Rover che aveva appena acquisito qualcosa del genere per cui qualche cosa era arrivato era arrivato anche ad Arese mi ricordo che per Mitsubishi Paolo era andato in Giappone sì sì però me lo ricordo ed era così un po' il diciamo la scelta poi ovviamente facendo la Joy Invento con General Motors che motore vai a prendere e non vai a prendere il BMW piuttosto che il Mitsubishi prendi quello di General Motors che stava sviluppando in quel momento e che era già a buon punto nella versione 3006 per il mercato americano bene io ringrazio ovviamente voi ringrazio anche il pubblico che ci seguirà in streaming quando trasmetteremo la conferenza sia in italiano che in inglese tra qualche giorno grazie a Valfrido Sergio Nicola grazie Alfa Club Milano che ci ha dato delle dritte un'ultima domanda io apprezzo molto che siamo dopo qualche backstage silenzioso siamo ritornati alla partecipazione è sempre il motore quante stelle Euro in K avevano queste macchine come crash test wow so che all'epoca la 156 che io mi ricordi non era stata testata mentre la BMW aveva già un 4 stelle e la 147 non ebbe uno score invidiabile per quello che sapete voi per quello che so io non l'ho seguito l'unica cosa che posso dire che le Euro in K all'epoca non so adesso sinceramente perché è un po' che sono fuori non era comunque un criterio di omologazione non era un criterio di omologazione no era una prova giornalistica quelle che i giornalisti si inventano non aveva senso fare un distinto tra i buoni e i cattivi no no diciamo no no per la carità perché ci sono delle vetture che avevano una stella o zero stelle però diciamo che non era un criterio di omologazione quindi se si passavano i test di omologazione a mia memoria l'Euro in K era un di più era un plus sul prodotto ma non era non era una cosa quindi non è dato sapere se una 100 c il numero non me lo ricordo sinceramente non me lo ricordo non è dato sapere quindi se una 156 anche di serie fosse meno sicura di una BMW Serie 3 no 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 non è che non è dato sapere io non me lo ricordo e anche tenendo conto che hanno avuto una carriera di oltre 10 anni e le regole delle rank up cambiano ogni due quindi sì ci sono ci sono diversi le valutazioni cambiano ci sono diversi test che vengono inventati anche dai giornalisti o dagli esperti oppure validi tutto quello che si vuole ma non sono codificati come test validi per omologazione per cui a volte se uno legge i giornali o se uno è aggiornato sull'ultima versione del giornale non si sa che poi vediamo come mi viene in mente il test la prova dell'alce con Mercedes è vero non stavo in strada ma non era una prova codificata sono corsi subito ai ripari è vero ma insomma non è che abbiano potuto dire così male del prodotto Mercedes perché non era una prova standard io ho la risposta per quanto riguarda le stelle della 147 perché in quel periodo lavoravo in Alfa Romeo voi sapete che la 147 viene definita con il tre stelle di Aeron Cup però non è esatto perché tutte le 147 vendute sono state modificate tant'è che in archivio è post modifica Aeron Cup quindi sono state tutte modificate nel telaio e hanno ripetuto il test e la 147 a 4 stelle sono finita davvero no si vede che è interessante basta poi mi fermo anche se avrei un milione di domande se si può un piccolo excursus sui biturbo cioè quali sono stati studiati sul bus cioè il 2C il 3.000 cioè cosa mancava un quid per andare alla produzione o larga scala vuoi rispondere tu sul biturbo no allora lui è l'uomo dei turbo diciamo il fatto che non siano andati avanti il momento in cui si sono sbincuati non era molto favorevole per per Alfa Romeo il momento in cui si è cominciato a muoversi sui biturbo perché la concorrenza cominciava cominciava a farlo in casa Alfa Romeo si cominciava a stare attenti a quel che si spendeva e quindi più di tanto non si non si dava sviluppo a questi progetti insomma un altro problema era un problema proprio di installazione perché pensiamo che questo motore viene messo nel vano motore di questa vettura gli spazi sono quelli che sono non è tanto mettere un turbo compressore perché è stato messo per carità sulla GTV sullo Spyder quelli della metà degli anni 90 c'era il V6 turbo il problema è un problema di impiantistica quindi le tubazioni che portano l'aria e che portano fuori l'aria e lì era abbastanza problematico soprattutto sul telaio su cui è sviluppata la 147 barra 156 sulla vettura 166 forse un po' più di libertà cioè sul telaio 166 un po' più di libertà c'era però era una complicazione non da poco l'altra l'ha già detto il collega questioni proprio economiche mi ricordo che c'era una versione che addirittura per venire incontro a problemi di installazione prevedeva il collettore di scarico con la voluta della turbina già integrata quindi era un unico pezzo non era un pezzo riportato e anche di questo qui avevamo un manichino su al quinto piano però il problema era un problema di investimenti che erano decisamente elevati e che punto di domanda quando si sarebbe rientrati da questi investimenti per cui diciamo che la cosa è un po' morta lì comunque io mi ricordo un 2005 24 valvole giusto poi mi ricordo era stato fatto qualcosa non so se sul 3000 o sul 3002 se era pensato anche di fare qualche cosa di turbo e poi altre non mi ricordo sul 2005 mi ricordo c'era anche la vettura col motore forse forse un tentativo sul nuovo sull'holden guardate che non è andato avanti tecnicamente il V6 due valvole con un monoturbo e un motore sacrificato comunque bisogna pensare questo è un V6 con un monoturbo una bancata viene un po' sacrificata tecnicamente voi dovete arrivare perché la bancata dove prendere l'aria calda lo portiamo dalla turbina è un'aria calda sì ma non si raffredda nel frattempo quindi è molto sacrificato un V6 monoturbo un V6 come questo motore è l'ideale in un biturbo tecnicamente questa è la risoluzione giusta però purtroppo ci sono tre cilindri che devono attraversare sotto del motore e andare dall'altra parte è molto sacrificato si perde energia in questo tratto e quindi già Alfa Romeo nell'85 avere il coraggio di buttare fuori era uomo gli unici questo bisogna dirlo era uomo gli unici a buttare fuori il 164 il turbo nessuno ha avuto il coraggio pure l'Alfa Romeo l'ha fatto perché nel nostro motore ci vedevamo due valvole però aveva questo handicap nel senso che si perdeva forse 5-10 cavalli non lo so perché una bancata è sacrificata l'ideale abbiamo insegnato al mondo come si fa esattamente bravo io comunque ho ricordato al mio collega che già nel 98 ho usato Alfetta GTV biturbo è arrivato un ragazzo dalla Svezia mi fa d'amico vieni con me ti faccio provare la mia macchina questo è venuto da noi a fare uno stage ma questo è un GTV tanto io ero abituato a provare mi sono accolto biturbo ma era una roba da impazzire biturbo è un motore non giudinale tranquillamente con problemi perché poi sapete che l'Alfetta aveva l'albero che passava sotto le immagini a 8.000 giri con l'albero di trasmissione che passa sotto quindi però purtroppo c'era questo qui è arrivato dalla Svezia fino ad Arese con il suo GTV e da lì che noi abbiamo insistito con il biturbo dopo sono successe le cose politiche purtroppo è la forma che non esiste più va bene vi dico un'ultima cosa a proposito di biturbo io quando ero un ragazzo mi ricordo di aver visto una 125 una FIA 125 biturbo biturbo attaccato dietro c'è una FIA 125 e il logo biturbo ecco bene grazie davvero per i vostri interventi chi volesse rivederseli senza far domande o meglio facendole per iscritto di nuovo si può collegare al nostro streaming e poi rivederselo all'infinito su Youtube grazie ancora ai nostri relatori grazie a voi e buona serata a tutti grazie buona serata grazie 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 a tutti grazie a tutti